la nostra silhouette poi ovviamente abbiamo sempre la zip con il salva calze l'imbottitura io sono fissata con questa imbottitura perché uno dice ecco un'altra cosa che mi piace molto l'impuntura a contrasto che è tra la somaia di 2 cm nero il colore che sta indossando Antonella in questo momento abbiamo anche perfetto vediamo questo stivaletto adesso sì allora questo stivaletto è una zeppa quindi direi che anche quest'anno la zeppa è diventata protagonista ecco ho anche un pantalone un po' maschile con la piega stirata un bel look femminile da lavoro con un certo in termoplastica quindi è un materiale ovviamente che aiuta tantissimo quello che è proprio la morbidezza l'elasticità cioè se la scarpa a bordo è bellissima ma io ve lo immagino mi aiuta sempre un pochino più lucido a dare quel tocco di elegantezza in più anche perché la parte frontale che sale sul collo del piede bella bella veramente carina con questa punta squadrata poi abbiamo il tacco come ti dice ti ringrazio ti ringrazio tu torni più tardi? no 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 basta basta che brutto carattere vi lascio meno no 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 Grazie a tutti.